Mi si è piantato una stacchetta in un piede, capisci? Una che? Una stacchetta. E cosa l'è? E' un ciodo. E' un ciodo? No, 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 me l'hanno sfilato. Ma te l'hai detto di chi? Eh, cosa vuoi? Mi dispiace che non lo vedo più negli occhi. E' perchè eravate un po' vicini. Eh, ma penso che oramai sia stato sospeso, sono entrati tutti in ciodo. Ecco, te ne un po'. Ecco, lo vedi? Non funziona, c'è dentro. Glielo dice lei. Alice chi? Alice Corsi, non so se l'ha connetta la presenza. Alice Corsi, è molto lieto. Gianni da Parigi. Da Parigi. Dice, tua mamma è molto più brava di te. Grazie. Lei ha fatto un video meraviglioso, di una romanticità unica. Vabbè, al tuo lato anche oggi? Ma senti, un po' i giardini di marzo è il nome della gelateria, non accidenti. Ah, ho capito! Ho capito! Ma sei proprio sicuro? Mi ha detto, mia beppe, che mi piace, eh? No, ma non è sicuro. Ti l'hai visto? L'ho visto, sì. Mi ha fatto galare. E io dov'ero? Ha letto? No. Ti preoccupa, eh? Ma lui? Ti intendi luce, scusa? Ma lascia perdere, o sei a 50 anni con le moto? C'era un problema. Vabbè, dai, che ti faccio girare. Ti sei giattato anche ai giardini? Gillo, ma non ti che l'è accaduto? No, ma io... Io ci sto bene. Ma lo sai che nella mia famiglia c'è un passato da cosa? Da soldato semplice, da militare, da partigiano. No, ma io... Porca, non posso, ci sentiamo dopo, non posso adesso, ciao. Ti richiamo fra circa minuti. Io vado, eh? Cioè vorrei che ce ne rimanesse un po' per la scena, mi metto il muro, non piaccio ci metri. Tra un po' finisce, eh, tra un po'. Ok, i gelati pronti? Grazie. Dai! Mi è caduto il castro Meno male, almeno un po' di fresco Mi vado fino a fondo ai piedi Dai! Mi sono un po' sporcato Appena appena qua Ma è talmente buono Beh basta Gino Pepe ti posso dire una cosa Io questo signor Non puoi dire più Ce l'abbiamo 100 rotoli che dobbiamo arrivare fino al porto?